Cosa rappresentano eventi come questi per la Toscana? Mi pare che con Arsene Kratz il sistema pistoiese metta a disposizione il proprio saper fare, il proprio saper organizzare, il proprio saper allestire un reticolo di relazioni coinvolgendo chi rappresenta il territorio, il sistema non solo istituzionale, quello produttivo, quello camerale. E' anche un metodo buono per stare in campo, per valorizzare le risorse territoriali, quelle sedimentate nel corso del tempo, quelle che puntano sul futuro investendo. Soprattutto mi interessa molto e credo interesserà molto il Consiglio regionale e la regione nei prossimi anni questo saper fare sistema sul territorio, e cioè capitalizzare l'eredità culturale e produttiva su una prospettiva di innovazione facendo scala, chiamando i protagonisti di un territorio vasto e non solo puntuale a mettere a disposizione le loro energie e le loro risorse. Mi pare che a Pistoia lo si sia capito e mi pare che sia giusto che il Consiglio e le regioni, le istituzioni regionali anche in questa nuova fase di programmazione pongano attenzione su questo modo di stare nella contemporaneità. Grazie.